La più sexy tra le wags italiane posa per il mensile in bikini. Bianco, oro o nero, poco importa, non c'è due pezzi. L'ex velina si riveste e prima di debuttare in spiaggia, afico. Abbandonato il bancone di striscia, ora non c'è settimana che non faccia un zai chiede sacrifici e lei è pronta a tutto. Grazie. 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 Grazie.